sto pensando andiamo a bucchia o a bucchia? ormai il nostro spawn è in mole e da là che facciamo le miglia di partite cheat! non muoio mamma che lente del m***o tutti qua? già stanno a terra ma come cazzo fate? ma Gesù Cristo non vi punisce mai ma quanta gente Paki dentro qua c'è gente? è proprio un cecchino però ho trovato le armi quindi potrei sparare dall'alto sono furbo non ci sono più arrivo arrivo a qui i quanti sono? due due per dentro l'interrogo finisci l'ho visto è bianco non muoio non muoio sto per entrare ha tenato uno? dai mi ha fregato la Kim mamma mia ma che cazzo hanno fatto Splinter Cell mi serve un'arma ma sono proprio scarico io sono una cappa è meglio che te l'ho fottuta la kill scusami la vogliono senza energia questo migliora le armi che lingotti abbiamo qua? 50 lingotti che migliore? i testicoli non va tutto a più ma io sto a sta cappa di merda no non l'abbiamo fatta veloce mi sento delle CL chi c'ha le CL? è bello questo anzi te che lo so che ti piace che quanta roba ma che l'ha fatto Luigi secondo me no lui è la seconda volta che fai sta cacata ci sono i chip e me lo faccio viola al pompa viola ho il pompone ma ormai fortnite è diventato arena non si sta più né ma power né ma pin kill of the pool 010 niente non c'è proprio niente ci vorrebbero un po' di material alla francese è la safe lontana come al solito tanto fortuna 0 qua secondo me ci tocca andare in safe no? no secondo me ci tocca morire anche adesso attenzione Hamilton Hamilton ma no 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 è un pilota della roba ma come l'hai chiamato? va bene Hamilton Hamilton no Hamilton eh per favore dai non mi farei morire vaga che mi trova in un assalto di merda che lo vado a potenziare subito tipo una è un M4 però K non ne voglio salite salite vabbè e sono fuori di tutto materiale io no mi rispetto per gli anziani non ci credi a cominciare non ci credo poi si ferma ti fa vedere il lutto e poi non è stata una cercana da capa finita per favore chiamenina dove sta facendo un clacson che non possiamo dire che il dottor rosa da ricchione guarda che vieni qua vieni vieni dai sali 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 salite guarda che c'è roba qua aspetta un secondo non correre vuol che c'è la cassa quel giovane e la madonna che ho trovato raga vi do questo qua quello viola se lo volete lo prendo io vai vai do metti il tattico blu vieni questo cosa fa? non ti dà una minchia come ha soldi un cazzo un po' bene no segue fu eh 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 guarda mi sei fa e come l'apre sta cassa? eh? voglio una bella minchia c'era una cassa che non si affiva mi fa salire ok andiamo non sai come ti ricordi? a colosseo non c'è andare bene non faccio il giro ma è tipo qua ecco qua vai a scogliere sburroso eh? no niente ah io sei lì a scogliere burro no burro sei il burro ah ah ho capito cavolo eh andiamo a ucciderlo no 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 aiuto aspetta dai sei fermato ti fermo ogni poco ora te la fai a piedi dai ti prego ce la farai amico mio io quando ti dà la benzina? andiamo niente siamo a te andiamo a scelta andiamo a qua e qua quel bastardo qua e qua siamo già scelti tranquilli non è che hai perso qualcosa è sta cella che hai sentito sempre come una fastidio chip 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 non è che un mascotto? non è nessuno hm? ma di chi è la cella? scommetti che ti domenico no ma di chi è? eh forse lui cosa? no c'hai il piccello che ti suona? no eh allora sono tu suona no non so io di quale raga 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 davanti a me un tim intero è quello di dove? non è il mio no il vero dove ti può fare là? un tim intero di pillosce? eh dov'è? ve l'ho indicato cazzo là però sono entrato eccole eccoli guarda raga raga stanno saltando con le pietre filosofali di harry potter facciamo qua dove c'è la montagna saliamo e spariamo si si the mountain of kit e bees poi fra un minuto riparte la safe guarda dove si trova Castello Corallino è sicuro venga che stessi in me questa è vinta sicuro se vincimo qua proprio me ne da riudarmi colpi lanciarate uh un quarto verde guarda guarda che schiena era la taglia? c'è chi no? eh si muove non riesco eh ma è impossibile prendere questo comunque abbiamo la abbiamo la taglia non è mai qua il bastardo no come l'ho schivato io c'è la mente che ora facciamo una pena brutta me lo sento ora ora la pinola magica no no io non lo capisco lui cade continuamente boh ma facciamo venire la piedra a posto su perché? ma cadi sempre ma non è colpa mia se l'algo ma se l'algo non giocare perché semmo perdiamo va bene adesso gioco bene va bene ok devi giocare come i professionisti quando hai fatto vedere quella kill raga io c'ho pure allora c'ho tre scudini e i due splash quindi in caso di cure andiamo a posto safe scudini e due splash ma andiamo da quelle che c'ho la safe minchia ci voleva una macchina qua prendilo no ormai siamo arrivati e cominciano a costruire i castelli ah fanno quelle morte fanno ammazzata eh rizzo ammazzata scur di merda porco fricazzo aspetta la macchina scommetto no vabbè non ci posso credere ma fa rumore ma la c'è un team che cazzo mi fai rumore l'ho tolta l'ho tolta l'ho tolta ma t'hanno sentito ormai hanno sentito brum brum ma tu fanno avverire l'oro pum pum ti fanno avverire l'oro guarda non abbiamo un carlino che non lo portiamo a pries aspetta che lo portiamo a passeggio aspetta un secco carlino vieni con noi sei il nostro alleato dietro ah no è lui eh mi ha fatto rumore ah no almeno sono uscito dalla 6 tutti là sono tutti là raga è proprio matematico eh ma che oooh c'è una cosa cecchino però sei in safe da me che cazzo hai combinato da me stanno guardando da me raga aspetta aspetta è buono eccolo eccolo ah vabbè non ci posso credere eh vabbè eh vabbè uno rivista a giocare è tirato uno qualcuno mi viene a tirare mi furia qui sceso qualcuno mi viene a tirare scusa che sto fuori io sto fuori a controllare vado a questo che mi fa c'è costruzione cazzo i botti qua c'è chi ti merica però ora c'è una bombata uno che s'ha assoluta fino a a pasqua s'ha assoluto ah io sono insomma con i materiali ancora aspetta prendo questi io sono al massimo metto il mattone andiamo su set passo successivo stiamo girando il citofano ah perché c'è che c'è il pumpiccione per suonare il citofano raga scudini anche c'è tutto io ho preso il scudio vuoi splash? vai vai non c'è allora andiamo così mi porto il kit medico andiamo via subito 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 in 6 subito in 6 tante lenta ma dove cazzo andiamo qual è il bello comunque lui quello che ti ha ucciso l'ho ucciso io t'ha venito a venticare è il domenico finato vabbè non possiamo nuotare comunque fatta e c'è pure l'aildrop non prende non prende motoscafio ho notato è un ingigna qua sopra però aspetta facciamo così non facciamo cazzate no 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 andiamo in il terzo iniziala citare queste e queste no poi viene al punto un mostro che io scendiamo andiamo in castello per allenare ma a caso la canale ciba e cima in nascondiamo raga eh ma poi se la sette sopra allora andiamo sulla collina quella la aspettiamo se 20 secondi è una cosa cechinare quando a me quando sono in sé una terra grande 22 blu una morte comunque 23 fatti cadere e non c'è finale dietro poste confermato dietro davanti a noi pure attenti dove stavo è molto fatto panino sapeva che io non avete impulso no 11 10 9 8 persone ragazzo di noi no shield no chi mi ha fatto cadere vabbè è bianchissimo top 4 un aterrato a te la sinistra venite venite qua e qua sto catturando il compagno venite come cecchilando sai che è uno solito riferendo male sulla scala sulla scala sono in due col cecchino in mano non è uno solo quello là ma sono due sono due vero dovrà però che cazzo lo dici poi ti fai prendere 24 cura la cura bravo mi dana che te lo rischio di nida la sono gli olio è riuscito da non studi no vieni qua 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 lui lui sono finto materiale non c'è trova la trova vieni qua finto materiale dove va vai dai che c'è la safe dai che c'è la safe attenzione raga raga attenzione raga sono gli ultimi eh sono rimasti 5 bastardi stiamo attenti qui sono qua eh dove viene indicato fammi fateli fightare fateli fightare non attaccati stanno fightando tra loro state qua quella quattro persone quattro persone raga come prima ho venti colpi assalto vieni qua vieni qua vieni qua che te li do vieni in questo qua te li do io vieni qua da me quanto ne vuoi 155 150 vai grazie cosa ti serve più non sto troppo troppo esposti sono sempre quattro ecco 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 ma a sinistra sono morti tutti si si le ho uccisi io col cecchino alcuni e allora andiamo c'è la safe che si muore guarda 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 open ward era pieno che mi manda pieno mei rocchi coglioni non mi rimandare più le richieste da accettare kit medico mi serve raga poi guarda la richiesta che il messaggio che mi è arrivato va no però mei rocchi coglioni ma ti tolgo dagli amici me ne frega un cazzo mi muovi devi imparare a rispettare la gente che gioca e da sopra ha tirato bravo fattolo cadere quindi continuiamo dietro ragazzi e credo noi abbiamo uno dietro abbiamo uno dietro a lui pensato che non ha l'energia e non sta notando e non sta notando questo uno sta notando e uno sta notando speri che stanno notando vieni qua speri che stanno notando sono sotto sono sotto stanno notando la safe ho finito il materiale stanno curando stanno curando io vado in safe andiamo in safe raga ho finito il materiale andiamo in safe non ci pensare davanti ne abbiamo delle persone in aria io lo so c'è la montagna ditta ditta portati che ce la sei ho finito il materiale ho finito il materiale nooo cinquanto atterrato nooo ha senso di merda ma ne esce su cristo ogni bota ogni bota è qua dentro raga dai raga è uno solo è uno solo raga è uno solo raga poi mi vincere è solo è solo andate fuori andate fuori andate fuori forse muore mi ci darà un po' di materiale dietro 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 lui siiii 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 arena vittoria reale in live grande raga oh ma oh ma mi ammazza sempre la safe a me porca troia ah porca troia seconda vittoria reale in arrivo si perchè praticamente quando io ehm Piero quando tu mi hai quando quando quello mi ha cecchinato io mi è arrivato il tuo messaggio per leggere il tuo messaggio non mi sono mosso mi sono fermato un attimo con l'omino e quello mi ha preso